Al di là delle dichiarazioni cariche di ottimismo del ministro Patrizio Bianchi, il nuovo anno scolastico si sta aprendo con i problemi di sempre, con l'aggravante che alcune questioni legate alla pandemia sono ancora lontane da una soluzione. Per esempio in materia di Green Pass ci sono alcuni nodi da sciogliere. Con il decreto legge 111 il governo ha provato a mettere qualche punto fermo ma i dubbi permangono. Al momento per il personale non statale che pure accede in modo continuativo ai locali della scuola, basti pensare agli assistenti all'autonomia o agli esperti esterni che a vario titolo svolgono attività di supporto alla didattica, non è previsto alcun controllo. Stesso problema riguarda i genitori che negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia favoriscono l'inserimento dei bambini nei primi giorni di scuola. Su questo tema Jacopo Greco, capo dipartimento del ministero dell'istruzione, in sede di conferenza di servizio ha chiarito che ciò non toglie che i dirigenti scolastici potranno comunque richiedere anche a queste categorie delle forme di screening. Quanto ai test, ai tamponi gratuiti, precisa una volta per tutte. Il ministero ribadisce che i tamponi gratuiti verranno forniti solo a una categoria marginale, quella relativa al personale che non ha la possibilità di ricevere il vaccino sulla base di una certificazione del ministero della salute. Ogni 48 ore la scuola deve fare un tampone a queste persone? No, queste persone sono esentate dall'obbligo di Green Pass, non hanno bisogno di accedere alla scuola con gli adempimenti obbligatori dovuti ai soggetti non fragili. Il tampone gratuito sarà periodico in forma di screening preventivo. Per la verità su tutti questi temi ancora il nodo non si è sciolto e si sta discutendo proprio in queste ore in Consiglio dei Ministri. Nel dibattito di questi giorni si è alzata anche la voce della ex ministra dell'istruzione Lucia Azzolina che ha attaccato l'attuale titolare di Viale Trastevere sul tema delle classi con tutti i vaccinati. Afferma Lucia Azzolina, giù le mascherine se tutti vaccinati? No, è uno sbaglio. Così la DAD dietro l'angolo come il rischio che i non vaccinati siano bullizzati. A scuola insegniamo l'inclusione, non l'esclusione. Ritornando al decreto legge 111 va detto che nei giorni scorsi fonti ministeriali avevano fatto sapere che si sta già lavorando per una modifica del testo, ma gli ultimi eventi politici fanno sorgere qualche dubbio sulla possibilità che l'operazione vada a buon fine. Al Senato, nel corso dell'esame del decreto sul Green Pass di fine luglio, il decreto 105, la Lega ha votato alcuni emendamenti presentati da Fratelli d'Italia, creando non poco imbarazzo all'interno delle forze di maggioranza. Senza considerare poi che, per altro verso, i rapporti fra il ministro e i sindacati non sembrano affatto tranquilli. I problemi che si sono presentati nei giorni scorsi in occasione dell'assegnazione delle supplenze ai precari delle GPS non sono piaciuti per nulla alle organizzazioni sindacali che protestano per i troppi errori che in diversi casi hanno portato persino all'annullamento e al rifacimento delle nomine già fatte. Tanto che c'è addirittura qualcuno che sta dicendo che in futuro sarà meglio tornare al vecchio sistema delle convocazioni in presenza negli uffici degli ambiti territoriali. E poi, non ultimo, c'è il problema del rinnovo contrattuale che non tarderà ad esplodere nelle prossime settimane se il governo non riuscirà a dare risposte rassicuranti alle parti sociali. Nella giornata dell'8 settembre i sindacati sono stati convocati presso il ministero proprio per iniziare a discutere sull'atto di indirizzo necessario per dare avvio alla trattativa vera e propria. L'incontro è stato assolutamente interlocutorio. I tecnici del ministero non sono stati neppure in grado di assicurare sulle intenzioni del governo di stanziare altri fondi per il rinnovo contrattuale. Quindi tutto è rimandato alla predisposizione della legge di bilancio e lì si capirà davvero che cosa potrà succedere al contratto del comparto scuola. Su tutto questo noi ovviamente continueremo a tenervi informati e quindi seguitici su questo canale ma anche sul nostro portale www.tecnicadellascuola.it mandateci i vostri commenti, le vostre lettere, i vostri suggerimenti e noi ne daremo conto come di consueto. Grazie a tutti.